ok la parte 2 come avevo già detto le ho fatte i giacchetti adesso devo soltanto unirli ora unirli così alla parte dobbiamo meschiarlo molto voluto perchè i colori sono più chiari e più scuri allora vediamo un po ora vediamo i colori sono tanti ok 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 comunque questo non ci ho messo neanche tanto a farlo diventa duro ci si mettono due minuti a comporlo ci ho messo un quarto d'ora però ero perché ero aiutato da mia sorella non posso ci metterò a opera mezzo al minimo adesso saranno passiamo la pena 12 minuti no adesso sarà passato un quarto d'ora il tempo che ho lavorato anche mentre non facevo il video adesso faccio una cosa e stampo o no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.